Ci sono, perché ho scoperto che si può essere innovatori anche con 150 anni di vita? No, va bene. Grazie. Grazie Andrea. Ci sono, perché per me dare assistenza ai clienti è più importante che riceverla. Ci sono, ci sono, ci sono, ci sono, ci sono. Ci sono, perché credo nel mio territorio e sono orgoglioso della mia gente. Ci sono, ci sono. No! Azione, Roberto. Ci sono e sono fiero di essere uno dei protagonisti di questo storico cambiamento. Ci sono, ci sono. Ok, stop. Ma metto così. Girati un po' verso di me. Azione. Ci sono, perché ogni volta che aiuto un collega mi sento una persona migliore. Grazie mille. Grazie. 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 Grazie.